Allora, io non so se sarò chiaro come la professoressa Consoni, che devo dire è stata bravissima. Ci manca il terzo relatore, che è il professor Galimberti, che è sindaco di Varese, che ha avuto un'emergenza in comune e quindi non ha potuto venire. Quindi vi manca la parte, che però la professoressa Consoni ha accennato, della clausola di Stan Steele. Però direi che di materiale per oggi ne avete abbastanza, di neuroni consumati ne avete tantissimi. A me tocca una parte molto sentita, ma non semplicissima. Siccome una parte tecnicamente, che tutto sommato si concentra su due articoli del coce del procedimento amministrativo e un articolo, mettiamo due, del coce dei contratti, cercherò di spiegarmi nel modo più semplice possibile, perché parliamo proprio tecnicamente di processo amministrativo e non è proprio la cosa, forse, per cui questa platea è venuta a sentirci. Il titolo che mi erano stati assegnati due possibilità di titoli. Il primo era la tutela giurisdizionale e sindacato degli atti dell'autorità nazionale anticorruzione e il secondo era l'autorità nazionale anticorruzione e tutela giurisdizionale. Io mi ero convinto che il primo fosse corretto, perché pensavo di trattare soprattutto la reazione all'invito, al provvedimento, alla linea guida di ANAC. Poi in realtà mi sono reso conto che la questione va trattata tutto tondo e la parte di ANAC, cioè quello che fa ANAC, assume un ruolo preponderante. Piaccia o non piaccia, poi ne parleremo nelle conclusioni, oggi il sistema di regolazione è composto anche da un soggetto che non è un soggetto giurisdizionale, non è un soggetto amministrativo, è un'autorità indipendente. Su questo potremmo discutere all'infinito se è stato leso il principio della ripartizione dei poteri, eccetera, eccetera, ma diciamo che in questa sede non ci interessa, in cui c'è un soggetto terzo. Anticipo già quello che dirò, questo soggetto terzo può provocare, chiamiamolo così, degli incidenti giurisdizionali, qualora ritenga che l'amministrazione non si adegui a quello che lei ritiene debba essere fatto. Questa è la grande novità del correttivo del codice degli appalti di giugno dell'anno scorso, con tutto quello che avrete seguito anche voi sui telegiornali, il Presidente del Consiglio del Ministro che era negli Stati Uniti, ANAC si sente lesa, il Presidente risponde, dice nel correttivo sistemeremo, si viene sistemato in serie di leggi di conversione per capire qual è la tensione che c'è attorno al ruolo dell'autorità nazionale anticorruzione. Va bene. Di che cosa parliamo? Ve lo accenno, noi parleremo, allora, anzitutto voi avete già avuto due incontri su ANAC, avete avuto l'incontro del 9 febbraio con Fazio, Federico e Rosignoli sui poteri di ANAC, e poi, come se non bastasse, avete avuto un incontro del 23 marzo sulle linee guida di ANAC con Matteo Accardi, Presidente del Tarde Zotti e Dottor Burti che è attualmente consigliere della Corte dei Conti, sezione per la Lombardia. Quindi un inquadramento generale su che cos'è ANAC, che cosa fa e soprattutto che cosa sono le linee guida, dovreste già averlo. Noi non parleremo solo di linee guida, ma parleremo di tutti gli atti che ANAC emana linee guida o non linee guida, che vanno a provocare un incidente giurisdizionale, cioè un ricorso verso ANAC o da ANAC. Quindi, devo però farvi un capitoletto introduttivo brevissimo sui compiti di ANAC, perché altrimenti andiamo direttamente nella norma e ci perdiamo un po' via. Di che cosa parlo? Facciamo una piccola parte introduttiva sui compiti e poteri di ANAC, il bilanciamento dei poteri di ANAC e i nuovi compiti attribuiti ad ANAC dell'anno scorso. Poi andiamo nello specifico e parliamo delle linee guida di ANAC, anche qui faccio un breve riassunto, sempre finalizzato all'ottica della procedimentalizzazione dell'incidente, sulla linea di guida di ANAC e il potere conformativo che è ANAC, sul procedimento di formazione di pubblicità delle linee guida, perché questo si innesta con il processo amministrativo, sulla giustiziabilità, cioè sul fatto che possano essere sindacate da un giudice amministrativo, su quali sono i compiti e i poteri del giudice amministrativo, in cui faremo un piccolo intermezzo su una delle rare sentenze, perché non sono poi tantissime, anzi sono veramente poche le sentenze che riguardano la giustiziabilità delle linee guida e del comportamento di ANAC, cioè la sentenza del Tarlazio 1735 del 14 febbraio 2018. Parliamo d'altra parte di un codice che è del 2016, che nel 2017 è stato in gran parte rivoluzionato, quindi capite che le sentenze possono essere veramente poche. Quindi abbiamo detto linee guida, poi non ci sono solo le linee guida, ci sono i comunicati del Presidente di ANAC, che ricevete, non dico tutti i giorni, ma quasi, e poi c'è la vigilanza collaborativa di ANAC. In pillole, l'invito di ANAC a annullare un provvedimento. Questa è la vigilanza collaborativa. A questo punto passeremo alla parte processuale, e quindi la legittimazione ad agire di ANAC, cioè quando ANAC può impugnare un provvedimento e come è strutturato il parere motivato di ANAC per gravi violazioni e il ricorso di ANAC. Qui entriamo proprio nel dettaglio della parte procedurale che interessa forse più gli avvocati o più i legali dell'amministrazione che non voi, vedremo di capire quant'è il livello di approfondimento. Però anche lì faremo un paio di esempi su due sentenze interessanti che riguardano l'invito di ANAC ad annullare e il comportamento conseguente dell'amministrazione che decide di annullare, oppure non decide di annullare e qualcuno o l'amministrazione o il soggetto interessato, che è il soggetto beneficiario del provvedimento, impugna l'indicazione di ANAC. Per non farci mancare niente parleremo brevemente della disapplicazione delle linee guida perché l'ha già accennato processo Consonni, le linee guida possono essere disapplicate tanto al giudice ordinario, tanto al giudice amministrativo e concluderemo con se c'è, però poi vedo che la parte successiva della settimana prossima è quella relativa al giudice penale e sulle tutele giudizionali, accenno semplicemente al fatto se in ragione della natura regolamentare o non regolamentare delle linee guida c'è un reato che è il reato che viene tutti i giorni a legge sui dipendenti e pubblici amministrazioni nell'articolo 323 omissione del dato di ufficio nel caso in cui io non rispetti una linea di guida ANAC. Allora, facciamo un brevissimo e vedo che sul reato è calato il silenzio totale della platea ma bene, però io non sono un penalista quindi vi do solo l'indicazione immagino che poi c'è la professoressa Perini c'è il professor Vittorio Italia la settimana prossima e forse c'è il dottore adesso o forse c'è l'ultimo giorno, non mi ricordo più forse con la Perini adesso con la Perini, sì perché sostituisce forse la dottoressa De Rentis non lo so, va bene, forse così va bene, allora ANAC io non c'ero le altre volte poi ditemi se sono cose che avete già sentito per carità però ve lo devo ricordare perché altrimenti quando arriveremo a dire che cosa sono le linee guida e quindi che cosa ne conseguo in termini procedurali queste premesse sono fondamentali altrimenti diciamo le conclusioni ma ci mancano le premesse allora, a un certo punto ad ANAC l'autorità nazionale anticorruzione nel 2014 confluiscono due diverse autorità e due diversi poteri il potere dell'autorità anticorruzione e il potere dell'autorità della vigilanza sui contratti pubblici lavori, servizi, forniture queste due competenze restano distinte sia pure all'interno di ANAC ANAC poi si arricchisce di una attività che è un'attività di regolazione che è la novità più forte all'interno dei compiti di ANAC quindi ANAC è un'attività che da una parte regola linee guida circolari cosiddetta tra virgolette soft law e vigila dall'altra parte con poteri ispettivi poteri sanzionatori e poteri anche di impugnazione giudizionale davanti al TAR la funzione tipica delle autorità indipendenti è la funzione regolatoria così ha la G.com e così hanno anche le altre a G.com l'ho citata perché ha la norma al suo interno dal quale nasce tutto perché a G.com dice espressamente la norma istitutiva può impugnare non è scontato perché? perché le autorità indipendenti non sono né giudice né non possono esserlo né amministrazione ma sono più vicine alle amministrazioni ma non sono un'amministrazione di secondo livello se prendete una multa potete andare dal prefetto perché il prefetto è l'autorità sovraordinata ANAC non è l'autorità sovraordinata le autorità indipendenti non sono autorità sovraordinate ok quindi ANAC ha queste due funzioni oltre ad avere una funzione regolatoria ANAC ha tutta una serie di funzioni che qui elenco soltanto ha compiti gestionali di amministrazione attiva la tenuta degli albi le SOE eccetera ha compiti parasigizionali e precontenziosi sono quelli dell'articolo 211 del codice che è la nostra norma di riferimento non so se vedete bene adesso ve l'ho proiettata magari servirà compiti di insieme in azione al Parlamento compiti gestionali funzioni consultive perché viene sentita funzioni informative la banca ha dati i contratti eccetera poi ci sono poteri strumentali 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 sono il potere ispettivo si avvale ad esempio della Guardia di Finanza compiti di segnalazione agli organi altri organi dello Stato Procura della Corte dei Conti Procura della Repubblica compiti di collaborazione con la Gcom i cosiddetti rating di legalità e compiti sanzionatori articolo 213 comma 13 sanzione denaro quindi abbiamo un'autorità a vocazione indipendente come sono tutte le autorità indipendenti che cumulano funzioni che normalmente sono attribuite a diversi poteri pubblici funzioni normative funzioni regolatorie di amministrazione attiva consultive di vigilanza di controllo e paragiudizionali sanzionatori con tutti questi poteri ci vuole un correttivo questo non lo dico verso ANAC o verso le autorità indipendenti ma i correttivi sono propri degli stati di diritto in tutti i casi in cui vengono attribuiti dei poteri vengono anche attribuiti e costituiti delle possibilità di difendersi da quei poteri altrimenti non saremmo in uno stato di diritto il bilanciamento dei poteri dei tanti poteri che ANAC deriva direttamente dalla legge delega istitutiva sono 14 punti di delega va bene adesso non sto qui a ricordarveli tutti la preoccupazione dell'ordinamento è quello di compensare un sistema che ripeto fuori dalla funzione amministrativa fuori dalla funzione giurisdizionale però ha un potere enorme nei confronti delle amministrazioni locali più tutti gli altri soggetti che sono soggetti ad ANCA però direi che noi parliamo soprattutto ed esclusivamente delle amministrazioni locali quali sono questi bilanciamenti la prima cosa è l'impugnabilità degli atti dell'autorità nazionale anticorruzione direi che è evidente perché alla fine anche gli atti dell'autorità nazionale anticorruzione sono provvedimenti esattamente come i provvedimenti degli enti locali possono avere efficacia più o meno pervasiva più o meno profonda ma sono provvedimenti a tutti gli effetti l'istituzione di una cabina di regia presso la presenza del consiglio dei ministri con compiti di monitoraggio impulso coordinamento e la cogestione di una serie di linee guida attraverso un potere di proposta di ANAC e l'approvazione del ministero delle infrastrutture sono due tipi di linee guida sotto questo profilo quella che emana ANAC direttamente e quella che invece emana il ministero delle infrastrutture su proposta di ANAC ANAC esisteva già prima la struttura esisteva prima a un certo punto arriva il codice dei contratti del reddito legislativo 50 del 2016 il vecchio codice non è una riorganizzazione della Merloni 1 2 TER è un nuovo codice contiene tantissimi errori grammaticali di trascrizione che vengono corretti a un certo punto va in operativo per un anno e l'anno dopo il codice viene profondamente modificato nel 2017 viene modificato con due leggi la più importante è quella del giugno del 2017 che incide profondamente in particolare incide profondamente sul tema dei poteri di ANAC e poi con la finanziaria del dicembre del 2017 va bene ma sono piccolissime cose che non ci interessano nel 2017 non solo vengono regolati diversamente le attività di ANAC ma le vengono attribuite 11 nuove competenze l'adozione di linee guida vincolanti il potere di proposta in relazione alle linee guida ministeriali la gestione e la qualificazione delle stazioni appaltanti l'istruzione e la gestione dell'albo e del commissario di gara gestione del rating gestione dell'albo delle amministrazioni parere in posizione dell'avvalimento 110 del codice potere di raccomandazione vigilanza sulle varianti vigilanza anticipata vigilanza attraverso il protocollo di intesa guardiamo riassumendo le linee guida tra i compiti di ANAC c'è quello dice la legge dell'articolo 203 comma 2 del codice vediamo vediamo se riesco a evidenziarvelo senza qua questo il compito di emanare linee guida a volte vincolanti a volte non vincolanti perché dico a volte perché non è non è scritto quando sono vincolanti non è scritto neanche nella linea guida allora se la linea guida viene messa viene trasferita all'universo mondo attraverso un decreto del mistero è pacifico che è vincolante ha efficacia di legge ma la linea guida vincolante di ANAC non contiene l'espressione sono vincolante non sono vincolante e non è una legge è una cosiddetta una brutta espressione soft flow cioè qualcosa che dovrebbe entrare nell'ordinamento senza l'efficacia della legge ma in qualche modo conforma l'attività dei soggetti che vi si devono conformare allora tra i compiti abbiamo detto adotta linee guida vincolanti partecipa come proponente all'adozione di linee guida ministeriali ha reso il parere sullo schema di codice ANAC ha reso il parere sullo schema di codice nel 2016 e formula al governo proposte di modifica del codice capite che il potere di ANAC non è soltanto quello di emanare linee guida vincolanti o non vincolanti adesso vi faccio la distinzione tra linee guida vincolanti e linee vincolanti non vincolanti spero di non dire cose in contraddizione con quello che è stato detto ma credo che ci siamo allora quando a un certo punto la commissione speciale che viene istituita presso il consiglio di stato lavora sul testo distingue del testo del codice distingue tra linee guida con decreto ministeriale linee guida vincolanti e linee guida non vincolanti allora la distinzione tra la prima e la seconda e le terze è intuitiva vincolatività non vincolatività obbligo di attenersi non c'è l'obbligo di attenersi il problema è distinguere tra linee guida vincolanti e linee guida non vincolanti perché non c'è nessun articolo del codice che dice se sono vincolanti o meno e ANAC ripeto non lo dice non è che delle sue otto se non sbaglio linee guida concludo dicendo questa linea guida è vincolante ma assolutamente allora una prima tesi perché dico questo perché poi ci serve di capire se le posso impugnare se le devo impugnare possono essere considerate vincolanti solo nel caso in cui il legislatore le qualifica espressamente come tali in tutti gli altri casi non sono vincolanti questa tesi ha il vantaggio della chiarezza della semplicità però è stata attaccata dalla dottrina perché dice ma allora nessuna linea è vincolante tutto il potere di ANAC si perde nel nulla un'altra tesi più strutturata dice la natura vincolante deve essere ricostruita alla stregua della funzione demandata dal codice se si tratta di attuare un cosiddetto precetto primario le linee sono vincolanti se invece parliamo di buone prassi applicative le linee non sono vincolanti con la conseguenza che all'interno di una linea guida ci possono essere prescrizioni vincolanti e prescrizioni non vincolanti questo non è ancora stato risolto nel senso che i giudici amministrativi TAR e Consiglio di Stato si sono espressi su almeno due linee guida ritenendole non vincolanti ma su due linee guida non sul sistema generale della linea guida in genere poi lo anticipo i TAR cioè i giudici amministrativi si esprimono sulla vincolatività della linea guida semplicemente per dire se il ricorso è ammissibile o non è ammissibile perché se la linea guida non è vincolante generalmente il ricorso viene rigettato dicendo guarda che potevi fare quello che volevi non c'è bisogno che tu impugnassi la linea guida fatta questa premessa sono giustiziabili cioè sono oggetto di un ricorso e quindi di una sentenza che le pone nel nulla il primo parere del Consiglio di Stato che viene tutt'oggi citato in tutti i contributi nei commenti nei contributi dottrinali dice non ha ritenuto vincolante o meglio non ha ritenuto la natura regolamentare delle linee guida ministeriali quindi non ha ceduto alla tesi della natura regolamentare delle linee guida vincolanti che cosa vuol dire? vuol dire che qui dovremmo tornare all'articolo 1 delle preleggi del Coggio Civile che nessuno conosce immagino che non conosciate neanche voi ma che neanche gli operatori conoscono quali sono le fonti del diritto le leggi i regolamenti e gli usi queste sono le tre fonti del diritto era chiarissimo è stato scritto nel 1942 quando sono state scritte in quell'epoca alcune norme che abbiamo ancora per fortuna la situazione si è un po' complicata quando a un certo punto è stata fatta la modifica dell'articolo 117 della Costituzione che parlando delle ripartizioni tra Stato regioni ed enti locali all'ultimo o al penultimo non mi ricordo parla dei regolamenti e attribuisce agli enti locali la potestà di emanare regolamenti nelle materie di loro competenza e riconosce allo Stato il potere e dovere di emanare regolamenti nelle questioni esclusive quindi la questione dei regolamenti diventa un pochino più complessa nel senso che ci si chiede e che aspetta se la Costituzione è attribuita allo Stato alle regioni agli enti locali perché c'è una autorità che non è né Stato né regioni né enti locali che può emanare un regolamento però è pacifico che ANAC possa per le linee guida vincolanti emanare delle disposizioni regolamentari il Consiglio di Stato a un certo punto ha ribadito questa posizione quando è stato sentito sulle linee guida in materia di RUP anche in questo caso poi ha citato l'articolo 117 ritiene che sono atti di regolazione delle autorità indipendente e quindi atti amministrativi di natura generale contestazioni va bene la dottrina tutta quasi l'80% della dottrina su ANAC si concentra sulla natura delle linee guida l'orientamento quindi come una sorta di integrazione di una norma primaria che sia incompleta e a questo punto è chiaro che dobbiamo dire che hanno natura regolamentare perché se la norma è incompleta e la norma è precettiva ha bisogno di uno spazio ulteriore sarà giusto sarà sbagliato ma questo spazio c'è la ANAC che integra la norma precettiva possono le amministrazioni parliamo non ci entrare nel merito le stazioni appaltanti a questo punto discostarsi da una linea guida che non sia vincolante il Consiglio di Stato dice sì le amministrazioni possono certamente discostarsi però devono offrire una motivazione una motivazione poi non dice quale deve essere questa motivazione però la motivazione va offerta quindi l'amministrazione dice il Consiglio di Stato potrà non osservare la linea guida e emette anche se dovessero apparire prescritti quindi a questo punto inserisce anche la possibilità che ci si possa discutere anche per una linea guida vincolante se la peculiarità della fattispecie concreta giustifica una deviazione dall'indirizzo fornito da ANAC ovvero se la vicenda puntuale evidenzi eventuali illegittimità delle linee guida stesse l'amministrazione potrebbe quindi discostarsi da una linea guida vincolante qualora ritenga che la linea guida sia illegittima in questo caso però dovrebbe impugnare la linea guida insieme con il provvedimento di ANAC come si for adesso ci fermiamo un attimo su questa parte passiamo invece a come si formano perché anche la formazione della linea guida è un elemento fondamentale per capire qual è la natura e l'impugnabilità della linea guida allora sia per quelle vincolanti sia per quelle non vincolanti è previsto un procedimento di formazione partecipato consultazione degli stakeholder utilizzo di metodi di analisi verifica di impatto e pubblicazione non solo sul sito di ANAC ma anche sulla gazzetta ufficiale il correttivo e questa era una cosa che si aspettava dell'anno scorso ha chiarito che gli effetti giuridici per i terzi quindi l'azienda vincitrice tanto per essere per fare un esempio che copre il 99% dei casi interessati decorrono dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale che è successiva a quella sul sito di ANAC e ha poi imposto un regime di vaccazio legis che di regola non può essere inferiore a 15 giorni sulla falsariga degli atti regolamentari articolo 213 come 17 bis del codice nonché un regime transitorio con la facoltà di ANAC di anticipare gli effetti eccetera ma comunque il principio generale è questo quindi il terzo gli effetti della linea guida nei confronti di un terzo interessato decorrono dalla pubblicazione non sul sito di ANAC ma dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale sono giustiziabili le linee guida allora qua c'è una norma semplicissima l'articolo 203 il comma 2 che è quello che abbiamo visto adesso che dice molto semplicemente le linee guida sono dichiarate impugnabili davanti al giudice amministrativo resta ferma l'impugnabilità delle decisioni degli atti assunti da ANAC innanzi i competenti ordini di giustizia amministrativa quindi il giudice è il giudice amministrativo quale sia il rito poi lo vedremo ma intanto il giudice degli atti di ANAC è il giudice amministrativo non è scontato perché a GICOM ad esempio è il giudice ordinario non è il giudice amministrativo allora il che vuol dire che siccome ANAC somma due funzioni quelli in cui ANAC è autorità vigilanza dei contratti pubblici a cui ANAC è subentrata ricadono sotto il giudice amministrativo quando invece li adotta come autorità anticorruzioni c'è espressa la previsione del giudice ordinario però diciamo che nel caso degli enti locali parliamo dei contratti e quindi parliamo dell'attribuzione al giudice amministrativo dopodiché c'è il problema qual è il rito il rito nell'articolo 213 non è esplicitato è il rito ordinario è il rito dei contratti è il rito accelerato è il rito super accelerato allora molto sintetizzando si tratterà del rito ex articolo 120 se le linee guida vengono impugnate in connessione con un atto di una stazione appaltante oppure del rito dell'articolo 119 che si applica agli atti delle autorità indipendenti nel caso in cui vengono impugnate autonomamente cioè indipendentemente da una contestazione certo in tutti e due i casi l'elemento fondante che è stato ricordato prima è l'elemento della lesività cioè il giudizio amministrativo è un giudizio sull'interesse legittimo e solo in alcuni casi sul diritto soggettivo si dice nelle prime lezioni che il giudice ordinario è il giudice del comportamento e il giudice amministrativo è il giudice dell'atto una distinzione che oggi non è più così chiarissima perché il giudice amministrativo oggi è anche giudice del comportamento della pubblica amministrazione però va bene mantenerla per dire che se io agisco in giudizio davanti a un giudice civile perché il mio vicino ha costruito distanze inferiore da quelle previste io non devo quasi non devo dimostrare nulla cioè basta la violazione della norma perché io sia leso e quindi accedo al giudice poi è vero che il codice procedura civile dice che bisogna avere interesse ma l'interesse è insito nell'azione davanti al giudice amministrativo invece la problematica dell'interesse è fondamentale perché io vado a impugnare un atto gli atti possono essere di due tipi sono validi erga omnes oppure riguardano soltanto un soggetto uno strumento urbanistico piuttosto che la giudicazione di un appalto io devo dimostrare soprattutto negli atti validi di aga omnes dove sono leso e capite che a questo punto sindacare una linea guida vincolante o non vincolante non ha importanza generale è facile tra virgolette impugnarla se dalla linea guida deriva ad esempio una mancata giudicazione cioè l'amministrazione la cita nel provvedimento di mancata giudicazione di giudicazione un terzo e quindi il terzo impugna la mancata giudicazione è la linea guida su cui si fonda la mancata giudicazione ma se invece impugno la linea guida tu cur da sola devo dimostrare e non è semplice che ho un interesse perché sono colpito direttamente da quella linea guida e non è semplice infatti nella generalità dei casi l'impugnazione di una linea guida indipendentemente dal provvedimento che ne deriva generalmente viene rigettata perché dice guarda avrai anche ragione ma dov'è il tuo interesse questo nel processo amministrativo è una condizione fondante non c'è nel giudizio civile quindi è poco sentita ma nel giudizio amministrativo la prima cosa che si chiede il collegio è se il soggetto ha interesse o meno ad impugnare l'interesse può sussistere non solo in capo agli operatori economici le associazioni rappresentative ma anche in capo alle stazioni appaltanti che non condividano questa impostazione quanto alle linee guida invece non vincolanti che spesso sono ritenute assimilabili alle circolari in qualche caso la loro contestazione avviene di regola unitamente all'atto applicativo perché se non è vincolante dove ho l'interesse ad impugnarla è un po' difficile sostenerla se ritenute immediatamente lesive perché impongono regole immediate regole di condotta o oneri possono essere immediatamente impugnate in qualche caso la giurisprudenza ha ritenuto che si potessero impugnare anche le circolari può in concreto verificarsi ovviamente che l'amministrazione si adeguino alla linea guida e che il destinatario dell'atto applicativo contesti l'atto applicativo insieme alla linea guida ritenendoli entrambi illegittimi entrambi devono presentare vizi di legittimità può invece al contrario verificarsi che l'amministrazione si discosti da una linea guida e qui si aprono due ipotesi che si discosti senza motivazione oppure motivando in entrambi i casi può sorgere il contenzioso sulla legittimità di un atto attuativo che si discosti dalla linea guida o per difetto di motivazione o perché la motivazione appare illogica contraddittoria o irragionevole in questo quadro si inserisce la decisione del Tarlazio 1735 del 14 febbraio 2018 sezione prima il caso del Tarlazio aspettate che lo prendo allora che cosa succede qui è il presidente del Consiglio Nazionale Forense che cita davanti al Tar l'autorità nazionale anticorruzione perché perché a un certo punto nelle linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'articolo 14 del decreto 33 2013 decreto Madia credo che lo conosciate meglio di me obblighi di pubblicazione concernenti titolari eccetera eccetera a un certo punto ANAC senza particolare motivazione dice disumendo dai principi generali in materia di trasparenza eccetera eccetera ritiene che gli obblighi di pubblicazione non solo siano imposti titolari di incarichi politici dello Stato regioni identi locali ma anche agli ordini professionali e in particolare in questo caso l'ordine nazionale forense degli avvocati perché perché tutto sommato il principio generale era questo allora il recita dice proprio così la linea guida le presenti linee guida costituiscono linee di indirizzo notate che ANAC non dice vincolante non vincolante dice linea di indirizzo anche per gli ordini professionali sia nazionali che territoriali non ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilità delle disposizioni dell'argomento con l'organizzazione di tali soggetti cioè ANAC offre una motivazione del contrario cioè non dice siete obbligati per queste ragioni no dice siete obbligati perché non vedo come questo obbligo possa essere contrastante con gli obblighi previsti nella legge Madia e quindi stabilisce espressamente che per gli ordini professionali sia nazionali che territoriali sussiste l'obbligo di pubblicare i dati di cui l'articolo 14 cioè gli incarichi eccetera relativamente agli incarichi o cariche di amministrazione in direzione al governo comunque dominante praticamente gli avvocati la parte direzionale presidente consiglio eccetera dovevano indicare nel sito esattamente se avevano incarichi da parte di pubblica amministrazione incarichi politici incarichi economici e così via allora il ricorso viene accolto e il il tarlazio richiamandosi a quanto aveva detto il consiglio di stato nel parere della commissione speciale del maggio 2017 quando stava per arrivare il il correttivo di precisa che le linee guida costituiscono un atto non regolamentare mediante il quale anaca chiarisce la portata applicativa e le ricardute organizzative degli adempimenti della normativa relativi al decreto il consiglio di stato nel parere aveva ritenuto che le linee guida in questo caso fossero linee guida non vincolanti e ci tiene a sottolineare lo stesso consiglio di stato aveva precisato che i destinatari parere del consiglio di stato possono discostarsi dalla linea guida mediante atti che contengono un'adeguata e puntuale motivazione al di fuori di questa ipotesi va bene se non c'è un'adeguata motivazione si può configurare l'eccesso di potere per mancata motivazione o per motivazione erronea quindi queste linee guida avrebbero una finalità istruttiva dice il tar poteva dichiarare a questo punto inammissibile il ricorso in due righe dicendo la linea guida non è vincolante voi non rientrate nell'elenco dei soggetti quindi fine del discorso e invece ci tiene a ricostruire tutto l'impianto distinguendo tra linee guida vincolanti e linee guida non vincolanti dicendo che questa linea è una linea guida non vincolante che quindi non ci si deve attenere e alla fine accoglie nel merito il ricorso dicendo ANAC ha sbagliato ma dice quella linea guida non è vincolante e quindi gli ordini professionali vi si possono disattenderla senza nessuna necessità perché? perché riconosce agli ordini professionali un ruolo che è strano ad una pubblica amministrazione se invece fosse stata una pubblica amministrazione allora in questo caso il TAR probabilmente sarebbe entrato nel merito avrebbe messo una sentenza non di non accoglimento ma di illegittimità della linea guida perché avrebbe avuto di fronte un soggetto direttamente interessato a tradurre in una sentenza l'illegittimità della linea guida invece in questo caso ha di fronte un soggetto che non è interessato dalla linea guida che non è sottoposto al parere di ANAC per il quale per di più la linea guida non è vincolante quindi cosa fa alla fine dice che il consiglio dell'ordinazione forense ha perfettamente ragione ma il suo ricorso è inammissibile per difetto di interesse perché non è un soggetto tra quelli elencati tra i poteri di ANAC in questo senso si è anche espresso il TAR Campania Napoli anche qui la sentenza è vicinissima 19 febbraio 2018 numero 1076 in questo caso parliamo delle linee guida numero 6 che sono quelle relative all'articolo 80 del codice dei contratti dice non sono vincolanti alla stessa viene riconosciuto atto natura di atto amministrativo generale con lo scopo di fornire indirizzi istruzioni operative e se sono appaltanti ancora una volta ribadisce se la linea guida fosse vincolante la conseguenza del discostarsi è l'illegittimità fatto il salvo potestà di impugnarla se la linea guida invece non è vincolante ci si può discostare ma siccome all'interno dei poteri di ANAC rientra quello di fornire indicazioni operative come sono le linee guida non vincolanti l'ente che se ne vuole discostare o è un ente totalmente straneo al potere di ANAC come era il caso dell'ordine degli avvocati o invece se è un ente che rientra nei confini della prateria dove ANAC esercita il suo potere allora si può discostare ma deve offrire una motivazione se non offre una motivazione c'è un profilo di legittimità per mancarsi di motivazione oppure se offre motivazione irragionevole contraddittoria c'è un altro profilo di legittimità che è il classico profilo dell'eccesso di potere bene a questo punto qual è il potere del giugno amministrativo nei confronti di una linea guida se le linee guide sono atti di natura regolamentare e o atti amministrativi generali non c'è differenza si tratta di un sindacato che a questo punto coinvolge tutti i profili di legittimità della linea guida ad esempio c'è un contrasto tra quello che si dice nella linea guida e una norma di legge oppure c'è un'errata applicazione della norma di legge oppure non c'è una norma di legge questi sono in buona sostanza i tre profili l'ultimo è forse quello di cui si è occupata la giurisprudenza in un altro caso che poi vedremo in cui ANAC ha esorbitato dalle proprie funzioni e a questo punto ha emesso un parere che non l'espettava emettere il giudice si è limitato a indicare che non esiste la fonte normativa quindi il sindacato sugli atti di ANAC è un sindacato pieno non è un sindacato come quello degli atti amministrativi di un ente locale è un sindacato che attiene i profili di legittimità cioè è vero che il TAR un tribunale amministrativo regionale non può mai sindacare l'opportunità perché questo vorrebbe dire che il tribunale amministrativo giudice amministrativo si sostituisce un ente locale un TAR non può dire la scelta di realizzare un autosilo è corretta o non è corretta sotto un profilo di opportunità non può dirlo assolutamente perché questo aspetta una pubblica amministrazione può però sindacare l'assoluta illogicità della scelta quando in una in una città di mille abitanti ci sono dieci autosili da mille auto se ne vuole fare l'undicesimo il TAR sulla illogicità forse si può anche esprimere però sono casi diciamo al limite delle potestà non può sindacare ovviamente l'opportunità di un atto regolamentare questo escluso può soltanto sindacarne la legittimità sotto il profilo della violazione di legge o l'accesso di potere ma sempre della legittimità allora l'abbiamo detto prima il TAR va a verificare in tutti i casi di impugnazione di una linea guida se la linea guida è vincolante o meno e da questo deriva il comportamento dell'amministrazione interessata faremo dopo un altro esempio quando l'amministrazione si adegua alla linea di guida o al parere di ANAC ci sono poi i comunicati del presidente di ANAC perché la norma è abbastanza vaga dice linee guida bandi tipo capitolati primo tipo e altri strumenti di regolamentazione flessibile comunque denominati a questo punto entrano in campo anche i comunicati del presidente che sono tantissimi sono molti più delle linee guida sono sempre a chiarimento in genere di una richiesta di interpretazione o di un intervento da parte di ANAC e allora si astrae dal CAD della fattispecie specifica e si ritiene opportuno dare un principio di buona regolamentazione che nasce da quella fattispecie ma poi riguarda astrattamente tutta l'applicazione della norma non è un atto una tipologia di atto che è prevista né dal codice dei contratti né dal codice del processo amministrativo non ha alcuna efficacia vincolante comunicato presidente di ANAC non ha nessuna efficacia vincolante ha un'atta ha un'efficacia di orientamento per le sezioni appaltanti che possono discostarsi in questo caso senza necessità di una specifica motivazione quindi senza necessità di particolari motivazioni il riferimento di giurisprudenza è al comunicato 5 ottobre 2016 al presidente di ANAC ha affermato che hanno natura di meri pareri comunicati ai presidenti di ANAC privi di qualsiasi efficacia vincolante per la sezione appaltanti trattandosi di meri opinamenti io non so dove hanno preso la parola opinamenti ma neanche Leopardi probabilmente usa opinamenti a me viene in mente deliramente apostolorum adesso non so se cioè nella cattedrale di Arles c'è il lenzuolo su cui venne provato che la Madonna era vergine al momento del paccio queste robe qua gli opinamenti inerenti e l'interpretazione della normativa in tema di appalti pubblici dice in vero per quanto a norma dell'articolo 213 del risultato del 50 2016 il potere sia estremamente ampio estremamente penetrante a presidio della più ampia legalità nell'attività contrattuale della posizione appaltanti non può ammettersi nel vigente quadro costituzionale un generale vincolante potere interpretativo con effetto a rega omnes affidato un organo monocratico di autorità amministrativa indipendente i cui comunicati per quanto autorevoli possono senz'altro essere disattesi diciamo che è un contributo all'interpretazione di una norma ma non è un obbligo di attenervisi per quanto riguarda le stazioni appaltanti e ci si può discostare ripeto senza particolare motivazione anche perché sottolineano i giudici amministrativi diversamente dalla linea guida per la quale c'è un percorso di formazione che non è il percorso di formazione delle leggi per carità però è pur sempre un percorso di formazione in cui ci sono delle contraddizioni nel senso che diversi soggetti possono esprimere un'opinione diversa i comunicati del Presidente di ANAC sono pareri atipici e come tali quindi privi di efficacia vincolanti per la stazione appaltante e per gli operatori economici nel solco di tutti i principi affermati dalla giurisprudenza in tema esercizio di potere normativo regolatorio da parte di autorità indipendenti così come dice il giudice amministrativo noi giudici amministrativi abbiamo sempre ritenuto che le circolari amministrativi di AGCOM e di tutte le autorità indipendenti che c'erano prima di ANAC non avessero valore conformativo così vale anche per ANAC sia perché l'abbiamo detto prima sia perché non rinvenivamo e non rinveniamo nell'ordinamento generale un potere di specificazione del portato della norma sia perché nell'articolo 213 dei contratti questo potere non c'è ora andiamo alla vigilanza collaborativa di ANAC che forse è la cosa che vi tocca tocca di più perché un conto è parlare di una linea guida cioè di un atto astratto che dice questa cosa si fa così e uno si interroga è vincolante non è vincolante devo fare un provvedimento oppure sono ancora nella fase di costruzione del bando e quindi costruisco il bando secondo la linea guida però mi devo chiedere bene se è vincolante perché se non è vincolante devo anche specificare perché mi attengo quella linea guida e poi mi espongo la possibilità di impugnazione e tutto l'infinito mondo delle impugnazioni e delle controimpugnazioni qui invece ANAC parla direttamente a voi mette il vostro nome e cognome nella letterina che vi manda e ovviamente considerando che ANAC al potere di segnalazione degli atti che ritiene che ritiene illegittimi non che sono illegittimi che ritiene illegittimi però al potere di segnalazione alla procura della repubblica alla procura della corte dei conti questa cosa ovviamente vi tocca particolarmente allora che cosa c'era qui parliamo dell'articolo 211 cosa c'era nell'articolo 211 fino all'anno scorso c'era il famoso potere di raccomandazione vincolante eccolo qua abrogato questo qui era e al suo posto sono stati inseriti il comma 1 bis il comma 1 terra e il comma 1 quater in sede di conversione è successo questo in sede di conversione del decreto 50 2017 era stato inserito un emendamento che eliminava il potere di raccomandazione vincolante però non era inserita alcuna altra norma questo ovviamente ha fatto scatenare il caos e il legislatore si è affrettato in sede di conversione a inserire 1 bis 1 terra 1 quater d'altro canto il legislatore si è comportato né più né meno come aveva suggerito il consiglio di stato in sede di parere il consiglio di stato non aveva segnalato che un potere di raccomandazione vincolante era un problema perché era contraddittorio la stessa espressione quale raccomandazione è vincolante nessuna soltanto la raccomandazione di Anna che era vincolante allora non è una raccomandazione c'è un problema ontologico nell'utilizzo del lessico giuridico d'altra parte il consiglio di stato aveva detto guardate che avete già previsto un potere di impugnazione ed è l'articolo 21 bis della legge 287 1990 che attribuisce ad agicom il potere di impugnare previo parere motivato ma non è più una raccomandazione vincolante che invita l'amministrazione a alimentare i vizi di legittimità i provvedimenti amministrativi illegittimi tu fai il parere tu fai vedere all'amministrazione che quel provvedimento è illegittimo l'amministrazione non si conforma tu impugni il provvedimento dell'amministrazione così funziona uno stato di diritto è un modello di vigilanza collaborativa che era già stato sperimentato devo dire ha superato i dubbi di legittimità è stato confermato e apparteneva all'insieme dei mezzi deflattivi del contenzioso guarda ravvediti perché altrimenti te lo impugno il parere motivato di Agicom serviva serve perché c'è tuttora a sollecitare la pubblica amministrazione a rivedere quanto statuito conformandosi agli atti dell'autorità attraverso uno speciale esercizio di autotutela qui entriamo poi in un mondo che per il campo degli appalti dopo esploreremo perché non è detto che il potere di autotutela e le procedure di autotutela che indicano che siano quelle che poi funzionano nel rapporto con trastazione appaltante e soggetti a giudicatari che invece sono regolati dalla legge 241 del 1990 ok quindi la motivazione del corso del tempo lo sapete meglio di me allora il modello dell'articolo 21 bis aveva già superato indenne il baglio di costituzionalità e il consiglio di stato lo ricorda al legislatore il legislatore lo ignora ma poi lo riprende quando fa il correttivo in sede di conversione del decreto legge adesso lasciamo perdere il decreto la parte di AGCOM e la legge l'articolo 21 bis dice semplicemente l'autorità garante della concorrenza del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali regolamenti e provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza del mercato l'autorità garante del mercato se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza del mercato emette un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate parliamo di violazione di legge non di opportunità violazione di legge se la pubblica amministrazione non si conforma nei 60 giorni successivi l'autorità può presentare tramite la vocatura dello Stato il ricorso entro i successivi 30 giorni ai giudizi instaurati si applica la legisprima del coce processo amministrativo è una norma semplice chiara che non ha dato adito a particolari interpretazioni diverse dal tenore letterale e che quindi il Consiglio di Stato suggerisce al Consiglio di Ministri di valutare e così il governo in sede di conversione lo inserisce non è esattamente la stessa cosa non è così chiaro diciamocelo però il nucleo è quello Anac che cosa dice diventa dice Anac dice è legittimata è legittimata ad agire in giudizio partiamo da primo dice su iniziativa ecco qui già c'è l'iniziativa che in Agicom non c'è su iniziativa della stazione paltante o di una o più delle altre parti l'Anac esprime parere previo contraddittorio relativamente a questioni in sorte durante lo svolgimento delle procedure di gara delle procedure di gara siamo in quell'ambito temporale molto delimitato entro 30 giorni dalla richiesta il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi cioè se chiedo il parere poi non posso disapplicarlo se io amministrazione lo chiedo non posso disapplicarlo il parere vincolante è però impugnabile davanti ai competenti organi giudizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 ecco il rito articolo 120 del codice processo amministrativo in caso del rigetto del parere se io faccio ricorso e il ricorso mi viene rigettato il giudice valuta il comportamento senso l'articolo 26 cioè può valutare il danno che è stato provocato l'amministrazione e lo può liquidare in sede di definizione e questo era presente a un certo punto scompare il complessissimo sistema della raccomandazione vincolante per cui ANAC alla faccia della celerità apriva un provvedimento formalizzava le contestazioni avvenivano le controdeduzioni l'amministrazione era poi libera o meno di attenervi se nel caso in cui non vi si ritenesse pagava una multa di 25 mila euro che se un appalto di milioni di euro è una sciocchezza alla fine pagava la multa è fine della storia e comunque arrivava alla fine di un procedimento che meno di 60 giorni non durava toglie questa raccomandazione vincolante e inserisce l'1bis l'1tere l'1quatre che dicono l'ANAC è legittimata adegire in giudizio per l'impugnazione dei bandi e degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto quindi non tutti solo quelli di rilevante impatto emessi da qualsiasi stazione appaltante qualora ritenga che si bilano le norme in materia dei contratti pubblici relative ai lavori servizi e forniture ANAC 1ter qui non si capiva se fosse la stessa cosa poi il regolamento ha chiarito che è ancora in fase di pubblicazione che io sappia e quello di gennaio ha chiarito sono due cose diverse se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento quindi qualunque provvedimento mentre i primi sono soltanto impugnazione di bandi atti regolamentari eccetera questo è qualunque provvedimento viziato non da violazioni da gravi violazioni poi il regolamento specifica quali sono le gravi violazioni del presente codice emette entro 60 giorni dalla notizia della violazione non dalla violazione né dalla comunicazione ma dalla notizia della violazione un parere motivato nel quale indica specificamente quindi è autonomo lo emette ANAC nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati ancora una volta vizi di legittimità non riflessioni in ordine all'opportunità il parere trasmesso dalla stazione appaltante se la stazione appaltante non si conforma entro il termine assegnato da ANAC comunque non superiore a 60 giorni dalla trasmissione l'ANAC può presentare ricorso può può presentare ricorso entro i successivi 30 giorni anche in questo caso articolo 120 del codice processo amministrativo uno quater è quello che completa da sostanza le due previsioni l'ANAC con proprio regolamento può individuare i casi o le tipologie e i provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri 2,1,1,1,1,1,1,1 ANAC l'ho fatto a gennaio e siamo in attesa della pubblicazione qui c'è un punto un po' quando si parla di norme dobbiamo intendere anche principi quindi la legittimazione sussiste anche in caso a un contratto escluso se sono stati violati i principi con cui la stazione appaltante era tenuta e vediamo molto velocemente il regolamento che sta per arrivare ed è stato pubblicato a gennaio per la contribuzione quindi ormai dovrebbe essere pronto è ancora in fase di consultazione ma dovrebbe essere pronto per chiuso l'autorità individua i casi e le tipologie detta una disciplina differente per il comma 1 bis e per il comma 1 ter quindi sono fatti specie diverse questo era importante perché non era chiarissimo e quasi tutta la dottrina riteneva che ci fosse una certa confusione nelle due norme definisce cosa si intende per contratto di rilevante impatto sulla base dei criteri che coinvolgono il numero di operatori coinvolti la rilevanza dell'oggetto la presenza di situazioni anomale riconducibili a condotti illecite o al carattere economico per importi dell'appalto per invece il comma 1 ter definisce i casi in cui è possibile riscontrare le gravi violazioni ossia violazioni idonee a ledere i principi generali della massima partecipazione e della concorrenza il regolamento poi specifica che il termine per l'esercizio del potere per gli atti soggetti a pubblicità legale o notiziale decorre dalla data di pubblicazione che risolve così un problema di associabilità al principio del termine ragionevoli all'articolo 21 nones della legge 241 i restanti articoli del regolamento dettono invece disposizioni comuni ai due poteri in materia di atti impugnabili acquisizione della notizia trattazione di segnalazione accesso agli atti pubblicità e rapporti con altri procedimenti dell'autorità quindi un raccordo con tutte le altre forme procedimentali che stanno in capo ad ANAC il regolamento prevede anche che l'esercizio del potere di impugnazione da parte di ANAC sia idoneo a sospendere i procedimenti di vigilanza e direi che era fondamentale dirlo con lo stesso oggetto non però i poteri di precontenzioso vincolante ex articolo 211 comma 1 questi sono esclusi quelli vanno avanti per la loro strada questo vuol dire che una volta approvato il regolamento gli operatori economici oltre a poter contestare direttamente gli atti delle stazioni appaltanti illegivi dei propri interessi possono anche segnalare ad ANAC altre violazioni ai sensi del comma 1 bis e 1 ter su cui ANAC esprime il proprio parere eventualmente invitando alla conformazione una riflessione sul termine provvedimenti che è qua questo provvedimenti ed è qua provvedimento bisogna intendere adesso non la facciamo tanto lunga però atti autoritativi inerenti la procedura di affidamento questo parliamo quindi non di qualsiasi atto ma solo di atti autoritativi che possono anche incidere nella fase di esecuzione del contratto ma sempre di provvedimenti si deve trattare quindi provvedimenti atti che hanno l'efficacia di conformare l'attività dell'appaltatore l'intervento di ANAC non può riguardare comportamenti o atti non provvedimentali della stazione appaltante in fase esecutiva qui depone a questo favore il termine provvedimenti e anche il fatto che il ricorso di ANAC si propone al giudice amministrativo e il giudice amministrativo si esprime su atti perché l'oggetto della sentenza del giudice amministrativo è l'annullamento questo è l'oggetto dell'attività del giudice amministrativo il giudice amministrativo decide se un atto deve essere annullato o meno punto qual è il termine per l'emissione del parere allora dice questo è molto particolare entro 60 il codice entro 60 giorni dalla notizia della violazione questo è un po' un po' particolare non dalla notizia dell'atto dalla notizia della violazione c'è una certa differenza c'è una bella differenza perché se fosse dalla notizia cioè il dia sa quo da cui scattano questi 60 giorni potrebbe effettivamente essere spostato molto in avanti rispetto al termine ordinario di impugnazione degli atti amministrativi e questo può essere un problema perché l'impugnazione dell'atto amministrativo decorre non dalla conoscenza ma dall'atto per quanto riguarda ANAC quindi ANAC potrebbe acquisire notizia della violazione dalla parte della stazione appaltanti dell'appaltatore dei soggetti addirittura da una notizia di stampa quindi quel principio di certezza del diritto che è alla base del fatto che il provvedimento amministrativo è soggetto ad un termine decadenziale impugnativo e non è che di 60 giorni tradizionalmente 30 per gli appalti ma non sono i 10 anni del codice civile del codice procedura civile ed è un principio di certezza del diritto e in questo caso potrebbe venire meno cosa fa ANAC? ANAC emette un parere motivato nel quale indica i vizi di legittimità ripeto non quelli di opportunità ANAC non può sindacare l'opportunità ma solo legittimare il provvedimento non può valutare la sussistenza dell'interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto su questo ANAC non può entrare che è riservata la stazione appaltante a cui d'altra parte è riservata la scelta di annullare perché non è ANAC che annulla ma è la stazione appaltante siete voi che dovete decidere se annullare non ANAC ANAC vi invita ad annullare indicando una violazione di legge è sufficiente la violazione di legge per annullare la legge 241 dice no non è sufficiente la legge 241 dice che voi dovete conformare la posizione dell'interesse generale del ripristino della carità violata con l'interesse del soggetto direttamente leso in questo gioco di comparazione il tempo esercita un ruolo fondamentale perché più tempo passa più c'è affidamento tant'è che nell'ultima modifica della legge 241 21 non è stato introdotto il termine di 18 mesi dietro i quali non si può andare siamo ancora vicini alla modifica del 241 per cui ancora ci chiediamo se i 18 mesi vadano anche all'indietro la risposta è stata inizialmente sì e poi a un certo punto la giudizia di sidenza amministrativa ha cambiato più ha detto no non si può andare vale solo per gli atti successivi alla 241 va bene c'è un'interlocuzione no nel senso che ANAC conduce una fase di contraddizione con la stazione appaltante ma non con il beneficiario del provvedimento illegittimo ovviamente è possibile l'interlocuzione fermo onestando che una successiva interlocuzione ci sarà nel momento in cui l'amministrazione decide di non seguire le indicazioni di ANAC a chi va questo benedetto parere il parere va trasmesso alla stazione appaltante non vi è obbligo di trasmissione ai beneficiari del provvedimento ritenuto illegittimo quindi il beneficiario del provvedimento il beneficiario del provvedimento ritenuto illegittimo conosce nel momento in cui glielo trasmettono chiunque quando ha notizia della trasmissione perché fanno accesso agli atti perché l'amministrazione lo comunica allora per lui scatta la possibilità di impugnarlo può impugnarlo e se l'attività dell'amministrazione è poi conformativa e deve impugnarlo non c'è niente da fare che cosa succede a questo punto per la stazione appaltante cioè per l'amministrazione l'amministrazione ha due strade conformarsi o non conformarsi nel caso in cui non si conformi sarà ANAC che impugnerà nel caso in cui si nel caso in cui non si conformi nel caso in cui si conformi sarà il destinatario dell'annullamento che impugnerà il provvedimento dell'amministrazione e al tempo stesso il parere di ANAC se l'amministrazione però in realtà non è che ANAC manda una comunicazione e 30 secondi dopo l'amministrazione risponde sì no non funziona così si apre un procedimento e si apre un procedimento in locutorio nel quale l'amministrazione può anche dire ad ANAC guarda ANAC secondo me stai sbagliando ti mando questa memoria perché ti invito a revocare o a modificare il parere d'altra parte il parere di ANAC è un provvedimento come tutti gli altri può essere anche lui stesso modificato o revocato ANAC può dire caspita mi sono sbagliato quindi annullo o revoco il parere che ti ho mandato può darsi invece che ANAC non risponda neppure a questo punto l'amministrazione è di fronte alla scelta nei 60 giorni la stazione appaltante potrà a sua volta impugnare il parere cioè la stesso comune può impugnare il parere oppure attendere che sia ANAC che impugna la sua decisione se decide di conformarsi deve intervenire in autotutela quindi cosa fa anche lì non c'è nei 30 secondi successivi due righe del comune indirizzate all'appaltatore che dicono oh guarda mi è arrivato il parere da parte di ANAC a questo punto annullo e no perché non è lo stesso procedimento sono due procedimenti diversi il procedimento con cui si forma il parere di ANAC è il procedimento con cui l'amministrazione decide di conformarsi l'amministrazione avvia un procedimento che è un classico procedimento di autotutela come tutti come quelli che fate tutti i giorni chiede il contributo indica un termine ANAC ha assegnato un termine all'amministrazione per adeguarsi quindi c'è un problema di questi due termini perché se l'amministrazione decide di adeguarsi nei 60 giorni avvia il procedimento dicendo già che intende adeguarsi ma l'amministrazione potrebbe anche dire guarda io ho ricevuto il procedimento di ANAC avvia un procedimento per valutare se annullare allora a questo punto c'è uno scostamento ANAC potrebbe interpretare il comportamento dell'amministrazione come comportamento ammissivo non hai assunto provvedimento nei 60 giorni io intanto impugno poi nel caso in cui tu annullassi va bene ritiro il ricorso ma intanto ti impugno il comportamento qui è chiarissimo siete sicuramente più bravi di me sui procedimenti amministrativi è chiaro che l'articolo 211 non cita la legge 241 quindi c'è un problema di gestione dell'articolo 211 rispetto all'articolo 21 nonies della 241 e guardate che sono vizi di legittimità anche quelli della 241 al pari dei vizi di legittimità sollevati da ANAC siccome l'articolo 211 non contempla un'aderego espressa ai termini per l'autotutere dell'articolo 21 nonies a differenza di quanto fanno gli articoli 108 e 176 che invece sono norme specifiche con procedimenti specifici il che vuol dire interpretando la volontà del legislatore al contrario che espressamente si è voluto non sottrarre questi procedimenti alla legge 241 sta di fatto che tutti i principi della legge 241 quando l'amministrazione avvia il procedimento in sede di autotutela valgono nei confronti dell'operatore assegnatario 108 che cosa dice il 108 parla della risoluzione del contratto il 176 parla della cessazione revoca o risoluzione del contratto pubblico allora se quindi alla fine l'amministrazione si trova di fronte a questo dilemma deve capire se nel procedimento che ha avviato con ANAC alle spalle si appliche i principi generali espressamente contemplati dall'articolo 21 la cui violazione è violazione di legge se la risposta è affermativa l'annullamento dell'atto non si può fondare soltanto sulla sossistenza delle gravi violazioni di cui parla l'articolo 211 esige che ci sia un interesse pubblico concreto ed attuale se la risposta invece è negativa cioè non si applica al 241 è un'azione astratta a tutela di una legittimità astratta dell'azione amministrativa in presenza di carri violazioni la soluzione più corretta vi dico è la prima apro un procedimento rispetto alla 241 punto su questo ci sono due sentenze interessanti una ci tocca da vicino nel senso che è il tar Lombardia l'altra è il consiglio di stato la prima è quella non è esattamente la stessa cosa però il principio affermato è interessante non dovrei citare la fattispecie ma ve la cito lo stesso è il tema delle paratie sul lago di Como a un certo punto la provincia senza che nessuno gli avesse detto nulla decide di revocare l'autorizzazione paesaggistica che era stata rilasciata per le varianti alle paratie nessuno gli aveva detto niente non c'era un potere confermativo non c'era nemmeno l'esercizio di un potere confermativo da sola la provincia motivando sul fatto che Anac aveva ritenuto illegittimo quell'affidamento decide a catena di eliminare l'autorizzazione paesaggistica perché è rilasciata su un provvedimento ritenuto illegittimo da Anac il Tar Lombardia dice scusate ma chi ve l'ha detto cioè esiste un parere negativo di Anac nei confronti della provincia che dice dovete annullare no allora siccome siamo comunque nell'ambito del 241 dovete motivare il vostro provvedimento e conclude dicendo così il parere negativo di Anac sulla legittimità di un'opera non su quel provvedimento dell'opera a cui il provvedimento accede non può costituire elemento da solo sufficiente a far ritenere non più sussistente l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera il cui venir meno o il cui mutamento costituisce la sola ragione legittima per un atto di revoca ai sensi dell'articolo 21 del 241 i principi generali sono totalmente rispettati la provincia può anche dire che quel parere era sbagliato perfetto ma deve dire perché era sbagliato non può dirlo semplicemente perché Anac ritiene che quell'opera non dovesse essere assentita la seconda sentenza è un consiglio di stato questa è la sentenza 581 del 2018 tra Lombardia e Milano la seconda sentenza è il consiglio di stato sezione quinta 2711 2017 numero 5555 che cosa dice la massima la massima della sentenza dice il principio costituzionale di buon andamento impegna le pubbliche amministrazioni ad adottare atti quanto più rispondenti ai fini da conseguire e implica che questo fine possano poi procedere anche all'autoannullamento principio generalissimo tra gli atti così reesaminabili ed autoannullabili vi sono le aggiudicazioni definitive di una gara pubblica non è che le aggiudicazioni definitive di una gara pubblica sfuggono al principio generale per cui si possono annullare addirittura nel coice c'è uno dei pochissimi poteri rimasti in capo all'amministrazione dello Stato di revocare senza motivo la cosiddetta risoluzione unilaterale che non è in danno dico semplicemente ho deciso di non fare più l'opera mi tiro fuori pago il 10% la sapete meglio di me il valore del lavoro i mezzi di cantiere tutto quanto quello che volete ma c'è anche la potestà di autoannullare e anche di revocare addirittura tra gli atti così i reesaminabili e autoannullabili sono anche giudicazioni definitiva una gara pubblica non di meno anche per l'annullamento d'ufficio delle giudicazioni va a pena di legittimità per violazione dell'articolo 21 nonis della legge 241 e di eccesso di potere accertata e adeguatamente esternata la sussistenza di un attuale e concreto interesse pubblico alla rimozione retroattiva di quell'atto di base e di quelli che ne seguono confermava una sentenza breve del Tarpuglia qui l'impugnazione originaria era stata svolta direttamente nei confronti dell'autorità nazionale anti corruzione e era stata ANAC che era andata in appello davanti al Consiglio di Stato nei confronti di Italfer che è il gruppo ferrovie dello Stato per la riforma della sentenza breve del Tarpuglia la fattispecie era che a un certo punto ANAC invita Italfer a riconsiderare in una certa procedura per la realizzazione di fasci di binari arrivi e partenze prese e consegna eccetera in zona Parco San Nicola stazione di Taranto Italfer comunica assieme a TAF SRL l'esclusione della gara con annullamento in autotutela della giudicazione e caducazione del contratto che aveva sottoscritto ritenendo semplicemente di condividere le conclusioni di ANAC se MA TAF impugnava davanti al Tribunale Amministrativo deducendo una serie di censure ma buona sostanza deduceva la violazione legge 241 il Tribunale Amministrativo diceva poche cose uno la delibera di ANAC non era vincolante accoglieva il ricorso per la fondatezza delle censure di violazione dell'arche 21 anche quando l'annullamento d'ufficio sia dovuto dalle violazioni e ancora di più dalle gravi violazioni di cui l'articolo 211 del codice dei contratti la valutazione comparativa tra l'interesse pubblico e l'interesse privato va fatta io Tar io Consiglio di Stato non entra nel merito di queste valutazioni ma queste valutazioni vanno espresse siccome le valutazioni non erano il Consiglio di Stato annulla cioè annulla il Consiglio di Stato conferma la sentenza di annullamento del Tar Puglia e c'è ovviamente il ricorso di ANAC non c'è soltanto il ricorso dell'amministrazione della stazione appaltante o del soggetto interessato c'è anche il ricorso che fa ANAC adesso qua sono cose più da avvocati che da uffici per cui ve la faccio molto velocemente qual è il rito? il rito dell'articolo 120 c'è la giurisdizione esclusiva no non c'è la giurisdizione esclusiva c'è la competenza del Tarlazio no non c'è la competenza del Tarlazio che invece c'è per le altre autorità ministri agicomo si va davanti cioè le altre autorità si va davanti al Tarlazio quindi ANAC può contestare comportamenti privatistici? no ANAC non può perché l'abbiamo visto parliamo soltanto di atti e provvedimenti inerenti alla procedura qual è il termine per ricorrere? e il termine è di 30 giorni anche per ANAC da quando decorre? dal termine assegnato alla stazione appaltante dalla decorrenza e se la stazione appaltante si attiene prima va bene possiamo discutere se il termine 30 giorni deriva devono scadere tutti i giorni assegnati no non è necessario perché la lesione perché ANAC è un soggetto come gli altri anche lui ha la sua lesione più alta probabilmente perché ha tutela dell'ordinamento eccetera eccetera però comunque a questo punto la lesione c'è e se io amministrazione decido il giorno successivo nei 60 giorni assegnati di non revocare il comunico per ANAC il termine per ANAC scatta da quando lo riceve perché così si conforma ai principi generali del giudizio amministrativo quindi l'attesa non serve la norma dice per presentare il ricorso è un termine non non tecnico presentare il ricorso non so nessuno sa bene cosa voglia dire è un spurio rispetto a quello di proposizione che è l'articolo 23 bis della legge TAR e quello di notificazione che è l'articolo 119 coce processo amministrativo normalmente si deve intendere che il termine 30 giorni è per la notificazione del ricorso e non anche per il deposito perché così vale anche per tutti gli altri soggetti che intendono utilizzare il rito dell'articolo 120 ANAC nell'impugnare chi deve evocare in giudizio deve invocare l'amministrazione resistente e i controinteressati esattamente come farebbe l'amministrazione resistente che deve convocare il controinteressato il ricorso privo del controinteressato è un principio generale del giudizio amministrativo non porta ad una sentenza positiva perché manca l'evocazione in giudizio di un soggetto che se rimanesse fuori dice ecco aspetta è uscito la sentenza ma nessuno me l'ha detto l'interesse dell'ordinamento è fare in modo che tutti i soggetti interessati stiano nella stessa stanza in questo caso davanti al giudice e che quindi quello che esce valga per tutti anche perché sempre per un principio di velocità del giudizio e di economicità del principio amministrativo chi ha da dire qualcosa deve dirlo lì quindi il controinteressato se vuole impugnare a sua volta deve dirlo in quella sede e farà il contro ricorso incidentale autonomo tutto quello che volete e ANAC è obbligata? no ANAC non è obbligata è una facoltà lo dice chiaramente quando decorrono i 30 giorni basta ANAC non può più impugnare fine della storia poi non so dirvi se non potendo più impugnare può ancora fare la segnalazione alla procura e alla corte dei conti che è prevista l'articolo 211 non lo so forse sì non so che senso abbia chi poteva proporre ricorso autonomo deve e abbia perso il termine può intervenire in giudizio può farlo no non può più cioè chi deve proporre ricorso autonomo lo fa dentro quel giudizio è possibile la riunione di giudizi è un giudizio come tutti gli altri può ANAC ha l'ANAC l'onere di immediata impugnazione di ammissioni di esclusioni quello di cui abbiamo trattato prima no ANAC non ce l'ha quest'onere perché non è parte direttamente l'ESA cioè la sua lesività è l'esività della norma non è l'esività di un cosiddetto bene della vita può ANAC invocare una tutela cautelare e come no certo che deve impugnarla deve utilizzarla può chiedere la sospensione c'è da dire che perché perché ANAC non può sospendere ANAC non ha una norma che dica intanto io sospendo il procedimento e poi vedo se fare ricorso no se vuole sospendere ANAC deve fare ricorso e chiedere la tutela cautelare collegiale oppure monocratica su articolo 56 davanti al presidente o super monocratica addirittura prima di qualunque tipo di notificazione eccetera deve quindi rivolgersi al TAR ANAC paga il contributo unificato e come no ANAC paga il contributo unificato lo anticipa come tutti poi si vedrà chi vince e chi perde e a chi addossarlo eventualmente anche in misura doppia può ANAC può ANAC sindacare il rifiuto di autotutela da parte vostra cioè può dire ANAC chiedo che venga dichiarato illegittimo il rifiuto dell'amministrazione di provvedere in autotutela e il problema è sempre lo stesso se qua siamo nell'ambito del 241 o meno di fronte a un ricorso di ANAC che non valuti questo profilo la stazione appaltante potrebbe dedurre l'assenza dell'interesse pubblico a fondamento dell'autotutela in realtà ANAC nel ricorso contesta anche il fatto che non sia indicato un profilo quindi nel caso in cui l'amministrazione decidesse di non attenersi l'amministrazione ha l'onere di indicare un profilo pubblicistico a fronte del proprio comportamento tra virgolette omissivo sul parere più contenzioso direi che ve lo salvo può il giudice amministrativo alla fine disapplicare una linea guida e questa è una bella domanda qui non siamo in termini di reciproco impugnazione ANAC che impugna il comportamento l'ente che impugna il provvedimento di ANAC il terzo interessato che impugna tutto perché se per caso poi perdesse deve comunque aver proposto ricorso che non può poi proporre ricorso fuori da quel giudizio sì il giudice ordinario e il giudice amministrativo possono disapplicare però il contorno è diverso perché il giudice ordinario può sempre disapplicare l'atto amministrativo che lui ritenga non conforme a legge chi lo dice lo dicono gli articoli 5 e 6 della legge 20 marzo 1865 numero 2248 la legge sui rapporti dello Stato può il giudice amministrativo disapplicare allora qui distinguiamo se siamo nel campo di diritti soggettivi o di interessi legittimi dovreste saperlo la distinzione che è sempre più labile e che abbiamo soltanto in Italia in Germania ad esempio dove hanno un diritto amministrativo tutto sommato simile al nostro molto strutturato questa distinzione non esiste noi distinguiamo tra diritto soggettivo e interesse legittimo il diritto soggettivo è il diritto a pretendere il comportamento di qualcuno il diritto l'interesse legittimo è invece l'interesse non è il diritto a pretendere che l'amministrazione dello Stato si comporti secondo le regole che lei stessa si dà e che quindi sia conforme a legge da questa differenza una volta si diceva nel diritto soggettivo posso avere risarcimento del danno nell'interesse legittimo no oggi questa differenza è sfumata perché dopo una sentenza numero 500 della Corte di Casazione anche l'interesse legittimo ha diritto al risarcimento del danno questo per dire che quando l'oggetto giudizio non interesse legittimo ed è il 99% dei casi che vanno davanti al giudice amministrativo si effettua una distinzione se è mancata l'impugnazione dell'atto avente natura provvedimentale il giudice amministrativo non può procedere a disimplicare l'atto presupposto perché se lo disapplicasse andrebbe incontro al soggetto che non l'ha impugnato io non posso non impugnare un atto presupposto cioè l'atto presupposto di Annac che dice di annullare e il soggetto annulla e io non impugno l'atto dico guarda giudice io impugno l'atto dell'amministrazione per vizi suoi ma non ho impugnato l'atto di Annac e il giudice mi dice è ok se hai ragione tu sotto profilo della legittimità dell'annullamento ex articolo 241 per carità va benissimo ma se per caso l'amministrazione si è comportata correttamente ha fatto le sue valutazioni e hai applicato una norma di diritto che è stata sanzionata che è stata ritenuta l'esa ad Annac tu devi impugnare anche il parere di Annac perché altrimenti vuol dire che io giudici ti sto venendo incontro e ti consento di impugnare nei fatti un provvedimento che tu non hai impugnato quindi impugnazione dell'atto presupposto se invece l'atto a monte ha natura normativa ad esempio è un regolamento presidenza del Consiglio del Ministero di Infrastrutture o linea guida vincolante di Annac beh a questo punto non c'è problema è un atto normativo e il giudice lo può disapplicare come tutti gli altri normativi se ritiene che sia legittimo questa distinzione è chiarissima per quanto riguarda gli atti delle linee guida adottati con decreto ministeriale che possono essere disapplicati e invece negli atti di regolazione delle linee guida vincolanti se si ritiene che abbia una natura regolamentare le linee guida vincolanti invece vanno impugnate non c'è niente da fare quindi nella pratica che cosa accade ho quasi finito impugnazione congiunta dell'atto applicativo e della linea vincolante impugnazione del solo atto a valle cioè l'annullamento emesso dalla stazione appaltante in conformità a linee guida ritenute illegittime in questo caso il giudice valuta se disapplicare o meno l'unico guida impugnazione di un atto difforme dalla linea guida ma conforme a legge il giudice previa disapplicazione della linea guida ritenuta illegittima rispinge il ricorso perché non c'è violazione non c'è interesse perché l'applicazione è corretta e andiamo all'ultimo punto se io non applico una linea guida sono imputabile fino all'articolo 323 il coce penale improvvisamente i neuroni si reattivano e c'è un'attenzione spasmodica questa cosa ora io non voglio anticipare quello che si dirà la settimana prossima che magari poi vengo smentito e non voglio essere smentito da un giudice penale perché mi manca solo questo allora che cosa dice l'articolo 323 l'articolo 23 punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che nello svolgimento delle sue funzioni o del servizio in violazione di norme di legge o di regolamento ecco qui il punto ovvero mettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio di un prossimo congiunto negli altri casi prescritti cioè altri casi prescritti dalla legge intenzionalmente intenzionalmente quindi condolo cosa vuol dire che sa di violare la norma e sa di procurare un vantaggio a sé o ad altri procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un vantaggio ingiusto questo è l'articolo 323 siccome contiene la parolina regolamento c'è da chiedersi caspetta è una linea regolamentare se la disapplico c'è la violazione di legge e quindi il 323 poi va bene il dolo che è difficilissimo da dimostrare il vantaggio patrimoniale l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale va bene tutte cose da dimostrare però intanto l'imputazione arriva allora il problema è sempre se parliamo di violazione di legge e di regolamento allora prima di tutto l'espressione violazione di norme di legge non è la stessa cosa che l'espressione violazione di legge che è contenuta nell'articolo 21 octies della legge 241 in tema di atto illegittimo a un certo punto il legislatore italiano ha detto quali sono gli atti illegittimi ha distrutto tra gli atti nulli e gli atti annullabili cioè ha inserito quello che per un centinaio di anni si è fatto ma che non era mai stato codificato va bene quindi la norma deve essere una norma puntuale come fonte di diritto anche a prescindere dall'emanazione di un provvedimento amministrativo cioè la violazione dell'articolo 323 c'è anche se io non emano un provvedimento amministrativo questo deve essere chiaro più complessa invece è la questione relativa all'azione di regolamento allora e lì la domanda è qual è il regolamento quando ci si trova di fronte al regolamento e fine l'articolo 323 del codice penale un primo orientamento dice solo se l'atto violato è qualificato espressamente come regolamento e unicamente se promani da un'autorità di legge che per legge abbia il potere di promanarlo perché perché qua non siamo più nella natura vincolante non vincolante siamo nella violazione di legge quindi se l'atto che è emesso porta questa gravissima conseguenza nel caso della sua disapplicazione e allora bisogna anche che il soggetto che lo emana abbia il potere di emanarlo quindi deve essere un regolamento deve essere qualificato espressamente come regolamento e deve promanare da un'autorità che ha il potere di adottarlo in questo caso ad esempio per fare qualche esempio che è vicino a voi è stata esclusa la rilevanza penale nel caso di violazione di una delibera di giunta non c'è o di un capitolato generale o addirittura di regolamenti degli organi costituzionali o regolamenti comunitari non c'è il 323 sempre un altro ambito però della dottrina ritiene sempre penalistica non amministrativista non ci parliamo tra chi si occupa di amministrativo e chi si occupa di penale è molto raro che riusciamo a parlarci parliamo due lingue completamente diverse altra dottrina penalistica ritiene invece di considerare la violazione dello statuto comunale perché lo statuto comunale è previsto per legge e perché c'è un organo che per legge il consiglio comunale è autorizzato a promanarlo mentre non vale per le ordinanze contingibili urgenti che non sono regolamenti poi c'è un altro ambito di approccio che dice questo è un criterio formale dobbiamo approcciarci a un criterio sostanziale quindi abbiamo di fronte un regolamento fino all'articolo 323 ogni qualvolta l'atto presenti le caratteristiche della generalità astrattezza e innovatività dell'ordinamento giuridico il caso che viene fatto è quello del piano regolatore generale voi direte cosa c'entra 323 col piano regolatore generale e c'entra perché in questo approccio anche la violazione del piano regolatore generale può ad avviso di alcuni far rientrare la fattispecie in un ambito penale perché perché il piano regolatore generale tutto sommato non fa altro che la violazione del piano regolatore integra una violazione della legge urbanistica della legge edilizia urbanistica che impone il rilascio del permesso di costruire solo se vi è piena conformità con la norma superiori e gli strumenti urbanistici a cascata posso quindi ritenere che ci sia una violazione per concludere la violazione della linea liquida di tipo vincolante può farsi rientrare nella violazione di regolamento anche se non corrisponde esattamente come presupposto per l'evocazione del reatto per quanto riguarda invece le linee guida non vincolanti a questo punto invece c'è una regolamentazione giuridica differente e quindi possiamo escluderlo come lo possiamo escluderlo per le circolari va da sé che in quest'ottica però quello che qui non siamo nell'ambito del parere qui la violazione del parere non c'è il 323 qua parliamo delle linee guida cioè di altri astratti va da sé che se uno ritiene che in un certo appalto prende un certo provvedimento per effetto di una certa linea guida e ritiene che di prendere un provvedimento a coscienza di forme dalla linea guida vincolante gli conviene impugnare la linea guida perché altrimenti si ritrova scoperto nel senso che può ritrovarsi un procedimento penale nel quale però non c'è un parallelo giudizio del giudice amministrativo che se si concludesse positivamente paralizza il procedimento penale e lo pone nel nulla e arriviamo alle conclusioni e ho finito allora la materia non è semplice la materia è recente quindi il rischio di dire delle stupidate c'è per tutti però mi sembra che il correttivo dell'anno scorso abbia riportato in un'ottica tutto sommato accettabile i poteri di ANAC all'interno del sistema quando venne istituto ANAC ma soprattutto quando ad ANAC vennero moltiplicati i poteri e in ANAC confluirono diverse autorità parte della dottrina la più conservativa in materia di diritto amministrativo che non è particolarmente flessibile gridò lo scandalo dicendo qua stiamo saltando tutti i principi di regolazione dei poteri ma soprattutto stiamo saltando i principi costituzionali di formazione degli atti conformativi va bene forse è così non lo so io non ve lo so dire io vi devo dire che studiando per questo incontro le le disposizioni specifiche cioè l'articolo 211 e l'articolo 213 mi rendo conto che con il correttivo alla fine bene o male un sistema si è trovato possiamo discutere all'infinito se i poteri che sono stati dati da ANAC sono troppi o sono troppo pochi possiamo discutere all'infinito se questi poteri sono efficaci non entro in questo merito però vi devo dire che alla fine il codice funziona così dovete immaginare di avere la vostra responsabilità il vostro procedimento voi che siete la stazione appaltante il vostro appaltatore gestire tutto questo procedimento e sapere che all'interno di questo procedimento ci possono essere degli incidenti in cui un soggetto si rivolge ad ANAC e richiede un parere il quale ANAC mette un parere e voi sospendete magari quotidianamente il procedimento e vi determinate sulla posizione di ANAC però sulla posizione di ANAC sulla vincolatività o non vincolatività al di là del fatto che non è mai scritto se la linea guida è vincolante o non vincolante in parte o nella totalità sta di fatto che quella linea guida la potete impugnare e quindi forse una preparazione maggiore delle amministrazioni locali sotto questo profilo che non vuol dire dare addosso ad ANAC ma vuol dire costituire una sorta di contraltare ad un potere dello Stato forse sarebbe opportuno che venisse implementata nelle amministrazioni locali ho finito grazie grazie grazie